E sono molto molto contento di avere due di miei figli in questa formazione della Bolivian Express. Prima, on vocals, Savannah Grace Olga. Savannah Grace Olga. E poi, alla batteria, il nostro ingegnere produttore e fantastico batterista, il mio figlio, Karma D. Olga, Karma Olga. Ok, cominciamo con un pezzo del CD for the album Second Wind. Ah, abbiamo portato anche CD's con noi. E il nostro tecnico è indietro della screen. E' il Barone Bianco. Questo è un miliardario eccentrico che insiste di guidare il nostro furgone e di vendere CD's per noi. Incredibile, incredibile, guarda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.